Il nostro protagonista è uno studioso, sta ricercando alcune notizie, alcune informazioni sulla leggenda della strega Kezia, che a quanto pare è morta, è stata uccisa, è stata giustiziata, ma il suo animaletto, che appunto è questa strana creatura, viene avvistato ancora tanti anni dopo la sua sparizione. Questa strega sembrava avere una casa molto particolare in una città. Il nostro protagonista va a visitare, cerca la casa di questa strega, perché a quanto pare questa casa ha una stanza dalla forma strana, la stanza dove viveva appunto la strega, che pare essere connessa con delle strane linee curve, in modo da collegare varie zone della città, e sembrava che venisse utilizzata per fare dei sabbat in segreto. Quindi il nostro protagonista stava appunto indagando che i vari piccoli della città avevate tre punti cultista. Avevate con voi tre punti cultista. Per quel che ne sai, Arkham è una città intimamente legata alla magia nera, e non è irragionevole pensare che quest'ultima si basi su una sorta di scienza primitiva, così come la chimica era originariamente confusa con l'alchimia. È possibile che quelle cosiddette streghe avessero scoperto nelle loro formule magiche certe equazioni, che permettevano loro di comunicare con quello che immaginavano fosse l'aldilà, e le adornassero di significati mistici per dare loro una spiegazione. La cosa più logica da fare in questi casi è risalire alle notizie pubblicate dai giornali, e parlare con le autorità per verificarne la veridicità. Tuttavia pensi che non sia prudente immischiarsi in casi che riguardano il rapimento di bambini. Prima di andare di persona alla casa della vecchia Kezia, puoi andare alla polizia e chiedere informazioni sulle strane sparizioni segnalate nella zona vicino alle colline o al fiume Miskatonic, o fare un salto negli uffici di Arkham Advertiser, il giornale locale, per cercare informazioni su possibili testimoni oculari. Quindi ora potete scegliere se andare ad indagare al giornale locale, oppure se andare a fare domande alla polizia riguardo strani avvistamenti. Adesso vi faccio votare, ho fatto prima una prova, dovrebbe andare tutto senza problemi. Adesso lo vediamo. Polizia o giornale locale? Ok, trovate la votazione in alto, sopra la chat, vi compare il pannellino. Vedete se vi fa votare? Dovrebbe comparirvi in alto. Oh, Reed! Guro che questo mese avrei voluto mandare un messaggio carino, ma Twitch non me lo permette, poi 45 è troppo multiplo di 5 per essere il mese giusto. Ok. Eh, senza emoto, stasera non funzionano, mannaggia. Sei stato molto bravo, hai aspettato il timing giusto, non lo fa quasi nessuno. È una cosa estremamente carina. Grazie, Reed, grazie. Com'è la prima... Ma come, Gino, camioncino? Ma non è vero che è la prima volta che guardi. Ma se sei sempre qui. Vorresti sapere cosa porto di solito, ma non è la prima volta però che sei live. Lul. Comunque è un canale variety il mio, quindi porto veramente un po' di tutto. dagli horror, alle avventure punteclicca, agli MMORPG, agli sparatutto, ai giochi di ruolo cartacei, ai format sui miti e le leggende, tante cose. Souls-like, tutto. Cavolo, non ci sei cascata? Eh beh, sai. Va bene l'Alzheimer, però. Ok, quindi avete votato il giornale. Ce l'ho fatta a 40 minuti, mi hanno fatto loggare. Sì, stasera ci sono problemi con Twitch. Ciao, Greg. Buonasera. Mi raccomando, ragazzi, non taggate, perché se taggate non va il messaggio. Voi lo vedete, magari che è partito, ma non arriva. Quindi non taggate stasera, altrimenti non si vede. Molto bene, ridda. Tutto bene, dai, si spera che smetta di piovere, che qua sta piovendo in interrottamento, ormai da settimane. Iri ci ha dato un giorno di tregua e oggi è ricominciato. Adesso si può taggare? Si è sistemato? Siete sicuri? Perché io continuo a non vederli i tag. Io continuo a non vedere i tag. Aggiornamento. Per taggare mettete il nome senza chiocciola, così evidenzia il nome come un tag. Ho provato ora e funziona. Io ti vedo viola e verde. Oh, è un problema noto? A meno che no, c'è senso, a meno che tu non abbia un'intossicazione alimentare, no, non dovrebbe essere un problema noto. Oddio, prova a refreshare, perché stasera Twitch dà problemi, quindi in realtà potrebbe essere un problema di Twitch. Arrivano? Ecco perché non mi salutava nessuno prima. Sì, raga, non taggate, se no non parto. Non so se adesso l'avete citato. Vedi il tag? Ah, sì, adesso me lo evidenzia. Sì. Ma forse ha sistemato? Sì, vabbè, raga, adesso non mi taggate in 6.000, però. Ok, sì, sì, forse ha sistemato. Ecco la notifica, abbonamento non è arrivata, forse è troppo visto che non mi... ma l'avevo... Ma l'avevo... Ma l'ho letto prima. Ma è lo stesso messaggio di prima, Kilian. ma non mi hai sentito prima quando l'ho letto e ti ho ringraziato? Sono confusa. Stasera non funziona niente, sono estremamente confusa. Eh sì, ma aspetta, sei tu che hai copiato e incollato, oppure sei crashato prima, Kilian? Sì, ragazzi, stasera senza tag. Mi era saltato un minuto la live. Ah, ok. Oh, quindi non hai sentito tutto il mio discorsone. Sig! Vabbè, comunque, riassunto, stavo dicendo che anche voi, mi mancate moltissimo quando... quando non c'è, non vi vedo. Sì, no, ti avevo fatto un discorso lunghissimo, sono affranta in questo momento. Stasera Twitch... Ripetilo, ma non me lo ricordo, non è che me lo sono studiato. Questi discorsi al muro. No, vabbè, era per tutti voi. diresti come si chiama la canzone della tua vecchia sigla di YouTube? How high? Sai che non mi ricordo, era tipo, how high are you? Una cosa simile. Esatto, ma infatti, come dice Jules, se non vanno i tag, pazienza, ragazzi. How you are? Bravo, bravo, read. Guarda, te l'ha scritto read il titolo. How you are? Esatto. Guardate che porti anche il salmone grigliato mentre ti suona il citofono. Vero? Quello è un ottimo content. Perché ho cambiato il logo. Non ho cambiato il logo. Il drago c'è ancora, ragazzi. Il drago è la mascotte. Un logo è un logo. Un mascotte è una mascotte. Il drago è la mascotte del canale. Il logo è il logo. È una cosa diversa, è un simbolo. Avanti, andiamo avanti. Volevate andare al giornale ed eravamo andati al 64. Dovevate indagare sul giornale. Gli uffici dell'Arkham Advertiser sono stranamente vuoti e silenziosi. Forse perché la maggior parte dei giornalisti e dei fotografi sta coprendo alcune notizie importanti. Come posso aiutarla? Ti domanda un uomo anziano mentre digita lentamente qualche parola sulla sua nuovissima macchina da scrivere Underwood. Dopo un momento di esitazione gli racconti che tutto quello che sai della vecchia Kezia e delle leggende locali. Demi di essere un dollar ogni volta che qualche matto cerca di scoprire i segreti della strega non dovrei passare le giornate a scrivere i loro necrologi. Forbotta minacciosamente. Il vecchio signore alla fine tira fuori con poco entusiasmo una statola di ritagli di giornale. Le famiglie della Horn Gangway chiedono la protezione della polizia per evitare altre sparizioni. Un gruppo di genitori preoccupati per i casi di bambini scomparsi nelle vicinanze del fiume nella Horn Gangway hanno chiesto al commissario Farnsworth di assegnare a delle pattuglie di vigilanza durante la notte di ogni Santi. Bisogna ricordare che non è la prima volta che sono stati segnalati attacchi di animali selvatici e sparizioni di minori nell'area. Il commissario ha raccomandato ai genitori di non lasciare che i bambini giochino sulle rive del Miskatonic per evitare ulteriori problemi. Se credi che sia arrivato il momento di visitare Horn vai al 12. Se preferisci andare a trovare il commissario Farnsworth vai al 52. Quindi potete scegliere di visitare Horn che è questa allegra cittadina oppure potete andare dal commissario della polizia. Quindi votate se preferite visitare la cittadina o andare dal commissario della polizia appunto. Ciao jailbreaks! Buonasera! Come stai Ale? Tutto bene? Eccolo qua! L'artista che ha fatto il nostro stream starting la nostra schermata di stream carinissima. È andata alla live tutto bene? al momento Twitch ha problemi a fare molti che non carica le mods si ragazzi stasera Twitch dà problemi non preoccupatevi non funzionano i tag funziona niente stasera hai capito? quindi hai triggerato la maledizione cover 9000 esatto manuel commissario bene bravi allora si va dal commissario guarda i G quando hai tempo ah l'ho guardato prima di cena dopo il guardo allora perché non avevo visto nient'altro mi hai taggato in cose vero? cioè sono sono tag vero? perché se sono messaggi privati auguri che mi finiscono in mezzo allo spam di mille mille milla messaggi messaggi privati di Instagram per me sono illegibili e se dovete farmi vedere qualcosa o mi taggate e allora lo vedo se no è tipo nope va bene anche le stories basta che mi taggate i messaggi privati sono illegibili ve lo giuro non c'è verso dovrei assumere una persona che tutto il giorno legge messaggi di Instagram porca boia allora ok basta che mi tagghi l'importante è che mi tagghi Jail siamo al 52 dal commissario bravi ti presenti alla stazione di polizia del distretto di Orn senza avere una chiara idea di dove cominciare un ufficiale ti conduce all'ufficio del commissario Farnsworth Wright sembra più un impiegato che un uomo d'azione ti spieghi che stai cercando informazioni sulle strane sparizioni che sono avvenute in zona e sulle chiacchiere riguardo la casa della strega a Ornil l'uomo ti ascolta gentilmente ma non sembra troppo entusiasta dell'argomento alla fine raggiunge una pila di rapporti nell'angolo più remoto del suo ufficio e li lascia cadere davanti a sé no Sharima Sharina abbiamo appena iniziato guarda ci si è persa ancora niente siamo al commissariato che stiamo indagando proprio sei precisa ecco qua dice con un'espressione di disgusto dipinta sulla faccia forse troverà qualcosa che l'intero dipartimento di polizia non è stato capace di trovare la maggior parte dei rapporti recca la data di giorni vicini ad ogni Santi per lo più riguardano gli avvistamenti di un essere deforme una sorta di ratto gigantesco con una faccia dai tratti umani che ficca il naso nei pressi delle abitazioni e segue i nottambuli più incauti ebbene siano state organizzate battute di caccia non è mai stato catturato altri parlano delle sparizioni di bambini dalle loro case una dozzina alcuni dei quali poi ritrovati a galleggiare vicino all'isola del fiume inizi ad avvertire un senso di vertigine e a sentire un sente mal di stomaco forse vuoi insistere con l'ufficiale di polizia per scoprire qualcosa di più oppure ne hai abbastanza e vai alla fonte del male a pagina 80 quindi volete continuare ad interrogare l'ufficiale oppure volete andare in città anzi andare alla casa il fonte del male è la casa della strega votate galleggerai anche tu cosa è successo su cod mao questo momento di decisione voglio che voglio dire che zio gabriel sta giocando a marvel spider bellissimo bellissimo quel gioco anche noi l'abbiamo giocato tutto e dato che appena è uscito il trailer di quello 9 è uno dei miei giochi preferiti ho pensato due volte ovviamente era quello vecchio che babbo che sono è certo noi l'abbiamo giocato all'uscita spider man e mi è piaciuto un casino anche i ragazzi qua in chat mi ricordo che eravamo tutti belli presi con spider man me lo sono veramente mangiato quel gioco bellissimo dovrebbero essere tre punti kage ti è mai chiesta cosa fanno i tuoi gatti quando non stai a casa si dormono la lili è letteralmente spalmata sulla scrivania che dorme oh strano balu non è non è in veranda allora starà dormendo sul divano si no dormono oh interrogate perfetto una cosa nuova io ho fatto parecchi content secondari non tutti però ne ho fatti parecchi ho fatto parecchie missioni secondarie davvero bello no l'ultimo spider man ragazzi se non l'avete giocato ancora l'ultimo spider man che è uscito sulla play 4 è bellissimo a me è piaciuto veramente tanto bello il combat bella la trama belle le quest è proprio bello va bene non preoccuparti avete votato quindi di insistere con l'ufficiale della polizia per scoprire qualcosa di più ti tormenta il fatto che la polizia non abbia investigato a sufficienza su questi strani eventi che sono successi nelle vicinanze della casa della strega potrebbe dipendere dal fatto che non è successo effettivamente niente di insolito ma qualcosa ti fa pensare che la polizia non stia prendendo sul serio le indagini forse a causa della povertà del quartiere indignato lo rendi noto al commissario all'inizio l'uomo sembra calmo man mano che le tue insinuazioni si fanno più aspre ma inizi ad agitarsi il tuo mal di testa è diventato insopportabile e sei certo che molte delle parole che ti sfuggono dalla bocca non siano realmente tue farnsworth non ci mette molto a chiamare in aiuto alcuni colleghi quando cerchi di afferrarlo per il colletto e scuoterlo dovete fare qualcosa urli disperatamente in quella casa succedono delle cose cose terribili i poliziotti ti trattengono e dopo averti sottoposto a una terapia di cazzotti ti portano in ospedale per un controllo oh perché la terapia di cazzotti c'è uno strano piacere nella follia che solo i pazzi conoscono seduto in una cella fredda e buia hai un sacco di tempo per pensare è valsa la pena? ora sai cose che gli altri non sanno comprendi segreti che non avrebbero mai dovuto essere rivelati all'occhio umano e puoi solo urlare piangere e gettarti contro i muri imbottiti di una cella che porta al numero 77 come sei arrivato qui non importa l'importante è come ne uscirai i medici useranno le più moderne tecniche di cura su di te elettroshock getti d'acqua pressurizzata microtrapanazioni all'inizio potrebbe fare male potresti perfino perdere i sensi per la paura mentre quel che resta della tua umanità svanisce piano piano ma ben presto la strana creatura con il corpo di ratto e la faccia di un vecchio che viene a leccarti i piedi durante la notte smetterà di sembrare reale e l'accetterai come una parte dei tuoi sogni senza controllo fine ma evidentemente non vi ricordavate che voi questa scelta l'avevate già fatta come io sono magnanima per questa volta ti do un checkpoint di semplice fatto che probabilmente non vi ricordavate che questa scelta l'avevate già fatta e vi aveva portato alla pazzia non è buono quindi in occasione del tutto eccezionale vi do un checkpoint vi riporto all'ufficiale della polizia quando gli stavate ancora facendo le domande e si va alla fonte del male che è la casa che è dove dovete andare ad indagare va bene per una volta ogni tanto vi do anche dei checkpoint giusto perché stasera twitch non va mi sento magnanima la labirintica città di arkham è avvolta da un'aura di magia e mistero che non la rende pericolosamente letale no scusate che la rende pericolosamente letale non hai la minima idea di come sei arrivato alla strada in cui ti trovi sei confuso e completamente solo in una sorta di passaggio oscuro creato dalle case fatiscenti che sembrano inclinarsi per formare un sinistro tunio la maggior parte delle finestre sono sprangate o protette da spesse assi di legno ricoperte di muffa la puzza è orribile una miscela di umidità vecchiaia e odore indescrivibile di muschio che ha impregnato la pietra fino a farla suppurare sordito da un improvviso e persistente mal di testa oh Ari che sono otto un bacio a tutti ragazzi e un bacio maffinoso a te curo che mi tieni compagnia oggi che ho finalmente ricominciato a lavorare Ari ma buonasera ma bellissima buonasera ben giornata per questo ottavo mese grazie per il bacio maffinoso me lo prendo tutto e te lo rendo indietro grazie Ari dai spero che insomma sia andato tutto bene sono molto molto contenta che finalmente hai ripreso il lavoro dai che si riparte tieni duro piccola la maggior parte la maggior parte la parte marcia Charlie sei qui ciao la maggior parte delle finestre sono sprangate o protette da spesse assi di legno ricoperte di muffa la puzza è orribile una miscela di umidità vecchiaia e odore indescrivibile di muschio che ha impregnato la pietra fino a farla suppurare sordito da un improvviso e persistente mal di testa attraversi il vicolo scrollandoti dalle spalle una spessa spolvere grigia simile alla cenere che ricopre tutto ricopre tutto trago dei problemi stasera riesco a parlare stasera infine solitaria come se fosse evitata dal resto degli edifici ecco scorgere l'ineffabile casa della strega sulla cima spoglia della Horn stranamente affascinato dall'edificio avanzi a pagina 70 oh e questo è quello che vedete esatto solo stasera cos'è quel k piccolino cos'è un k timido Roxy eh sì è in garde purtroppo stasera Mau è senza emote Mau stasera non c'ha la banana avanzi barcollando e lasciandoti alle spalle le vecchie case che sembrano implorarti di non proseguire fino a raggiungere i piedi della collina nella sinistra desolazione che circonda la vecchia dimora vittoriana non cresce nemmeno un ceppo d'albero il terreno è secco è spaccato come una crosta e solo un po' di erba giallastra è mossa dal vento di questo freddo tramonto la casa ti contempla ti contempla sì la casa ti contempla non avete mai visto una casa che contempla qualcuno eh cioè contempla contemplazione la casa ti contempla decrepita dall'alto con le sue finestrelle sprangate incurvata per il peso degli anni e delle storie maligne che filtrano dalle sue pietre vecchie e ammuffite e accovacciato sotto i tetti di ardesi a scura lattico che ospitava agli orrori delle pratiche della vecchia Kezia si scruta con il suo unico occhio di vetro che per sei sono troppe molte ah eh però dov'è la banana? per cinque è solo per cinque per sei too much no stasera siamo tutti fusi eh stasera ma nope sei sicuro di volere che questa sia la tua nuova casa? se vinci le tue paure e decidi di affittare una stanza vai al cinquantanove oppure è il momento di riconsiderare tutto come una follia e fuggire il più presto possibile pagina 8 ah cosa farete? fuggite proprio più veloce della luce oppure affittate una stanza vediamo quanto siete coraggiosi o sciocchi che le case scrutano la gente oh ctwick grazie mille per i bits 545 molto specifico quando usate questi numeri proprio non tondi grazie ctwick grazie mille e buonasera ben arrivato possiamo fuggire più avanti forse mi manca la ciazzola molto per farmi stare zitto per 5 eh che fai tieni privi di un appartamento nella nella casa della strega cosa fai? non la passi una notte nella casa della strega? quindi cosa avete votato? oh l'82% che vuole affittare una stanza 58 voti bohones hai capito coraggiosi o sciocchi ti armi di coraggio e oltrepassi la soglia temendo o forse desiderando che la casa trasformata in un ostello trascurato sia al completo e non abbia stanze libere ma mentre attraversi la tetra hall ti rendi conto che nessuno franne forse un disperato o un pazzo vorrebbe mai vivere nella casa della strega nel momento in cui fai il tuo ingresso ti assale il mal di testa che sembra intensificarsi mano a mano che ti inoltri nella casa come posso aiutarla? ah aspetta è anziana come posso aiutarla? ti è perso? l'apostrofa una signora decrepita quanto e muri con un accento straniero probabilmente europeo la signora Dombrowski è un'immigrata polacca che a causa delle circostanze del destino si è trovata ad acquistare una casa infestata dai ratti ignara dell'eredità di orrore che portava con sé la sua sorpresa si tramuta in paura quando le chiedi se la stanza della famigerata Kezia sia disponibile ad essere affittata non è il coniglio ragazzi il coniglio è la voce fastidiosa è questa che è molto diversa dalla voce della vecchietta il coniglio ragazzi è la voce fastidiosa non sbagliamoci altrimenti vi faccio la bambina fastidiosa per tutta la sera e lo so che non lo sopportate è fastidioso anche per me sembro posseduta è abbastanza creepy una persona che in una frase si parla in questo modo più che altro perché dici ma stai bene sei psicopatica è la stessa frase esatto lo so che non la volete la bambina fastidiosa quindi fate i bravi e non mi confondete la vecchietta con il coniglio perché altrimenti divento psycho libero tutte le mie personalità e poi siete finiti sono psicopazza ma chi la va ad entrare questa sali i gradini contorti e stretti con un senso di angoscia finché quando pensavi che saresti morto di stanchezza le scale finiscono all'improvviso davanti a una porta nera in marcia come un cadavere appeso letteralmente ad asciugare il sole fino a leggere la pagina 5 va bene come pain è vero sono le 42 personalità 42 precisa non appena metti piede nel disgustoso sottotetto una fitta di dolore ti trafigge il cranio dai per collassare ma ti sforzi di raggiungere il letto di ferro ogni passo fa scricchiolare le assi del pavimento e risveglia un battito d'ali sulla tua testa e ti rendere quieto prima che tu abbia avuto il tempo di chiedere che cosa sia tutto quel trambusto la vecchia signora ha chiuso la porta dietro di te lasciando la chiave dalla tua parte della serratura potresti giurare che hai evitato deliberatamente di attraversare la porta mentre crolli sul fetido materasso ti rendi conto che sei al buio ma sei troppo stanco per accendere una lampada a olio in preda al terrore ti prepari a nascondere la tua prima notte a nascondere ti prepari a trascorrere la tua prima notte nella casa della strega se durante la tua indagine hai vinto dei punti cultista vai al 109 eh li avete vinti che culo vero e che non vorrebbe dei punti cultista no no questa sera non diamo sfogo alle mie altre personalità ti basta chiudere gli occhi e ti perdi nei suoni della casa ma l'itesta si sta intensificando al punto da diventare insopportabile ma anche se vorresti svegliarti e correre non riesci a muoverti dal letto non importa quanto ci provi ti senti come se qualcosa ti comprimesse il petto vedendoti di respirare liberamente lo scricchiolio delle assi le tubature che tremano il respiro degli altri inquilini diventano un tormento dal quale si aggiunge il ticchettio esistente di una sveglia da quattro soldi che poggia sulla mensola cammino inutilizzabile i rumori della città persi nella distanza arrivano vattati alle tue orecchie dormono quasi tutti felici mentre la notte ti sussurra cose terribili che si mescolano con il trapestio frenetico dei ratti tra mezzi marci dopo di sudore ti svegli molto presto e senza pensarci due volte metti a esplorare la stanza alla ricerca di qualche indizio sulle conoscenze segrete di Kezia paradossalmente la stanza è piuttosto ampia ma una forma irregolare il muro a nord si inclina verso l'interno dell'edificio modo talmente significativo che il soffitto troppo basso per i tuoi incurva dolcemente nella stessa direzione a parte un'apertura triangolare chiaramente praticata dai ratti non c'è altro accesso allo spazio che deve esistere fra il muro pendente e quello esterno della casa anche se potresti giurare che quando sei salito sulla collina hai visto una finestra leggermente illuminata proprio in quella zona se pensi di voler esplorare la casa vai all'83 se preferisci interrogare gli inquilini vai al 15 se invece vuoi esplorare prima con attenzione questa stanza vai al 23 quindi esplorazione esplorazione della casa interrogare gli inquilini ve li ricordate gli inquilini gli inquilini oppure esplorate la stanza della strega gli inquilini si sono loro ne avevamo dimenticati gli inquilini nooo ma che carino Xedi Mau guarda che carino Xedi che stasera si priva delle moto per farti compagnia grazie rid parte la bambina una volta lasciala dormire la bambina la bambina la libero solo se fate i cattivi la bambina fastidiosa sai che è la bambina carina ma la bambina carina ve la dovete meritare ok quindi esplorate la stanza al 23 ti avvicini al muro inclinato e qualcosa dentro di te sembra agitarsi provi una sensazione di disagio simile a quella che si vive quando ci si avvicina al bordo di un precipizio senza protezione se osservi gli strani angoli che crea con il resto della casa non ti occorre molto per intuire un significato matematico che secondo te potrebbe nascondere indizi sulla sua funzione negli studi della strega non diceva di aver attraversato i confini del mondo spaziale che conosciamo proprio attraverso determinati angoli sai solo che ogni volta che concentri la tua attenzione sul muro il tuo mal di testa aumenta di a perdere del tutto la capacità di attenzione disturbato per il momento lasci da parte il muro certo che abbia a che fare con le ricerche che ti hanno portato fino a qui ma prima devi scoprire di più su Kezia e sui suoi studi vinci un punto occultista e cerchi di andare avanti con la tua vita vai all'università a pagina 40 quindi ora avete 4 punti occultista? 0-4 sa 4 raggiungi l'università convinto che in quella casa stai solo perdendo tempo anche se il mal di testa che ti molesta è diminuito il tuo aspetto è orribile e gli altri studenti ti evitano le lezioni sembrano eterne riesci solo a pensare a quella dannata stanza e al suo muro pendente i 4 no dovrebbero essere i 4 è diventata un'ossessione totale finisci per trovare degli schemi nei suoi angoli e nelle linee inclinate della muratura no ma non erano 3 prima? pare ne avess 3? i giorni procedono e i tuoi voti si abbassano fallisci in calcolo infinitesimale e psicologia generale ma le tue conoscenze in matematica e fisica lasciano stupiti i tuoi docenti alla fine una mattina di marzo ricevi un messaggio da parte del bibliotecario bibliotecario del bibliotecario della Miskatonic il professor Harry Armitage desidera vederti urgentemente nel suo nuovo ufficio ma che bello averti tra i sub ma ben arrivato oh Meli sono molto 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 contenta che tu abbia deciso di subare grazie mille sei super super benvenuto fra di noi mi dispiace che stasera insomma sia proprio la serata in cui le moto non fanno vedrai che da domani ripartiranno senza problemi oggi purtroppo switch si dissocia grazie mille Meli grazie alla fine una mattina di marzo ricevi un messaggio da parte del bibliotecario che ti vuole vedere d'altro canto il professor Uffan vuole discutere con te alcuni aspetti delle ultime teorie nel campo della fisica che potrebbero risultare di tuo interesse vuoi incontrare Armitage o ti frattieni al piano ti attieni al piano scientifico quindi volete andare da Ermi Armi da Ermi il problema è mio Ermi Armitage volete andare da Erry Armitage oppure andate da Uffam allora Erry Armitage lato scuro Darkseid magia Uffam o come si chiama fisica troppo senza pulita quindi Armitage o Uffam votate sì ma di Charlie Moment ne è pieno la sera questa sera va così ma molte sere va così perché la sera boh si vede che sono particolarmente stanca quindi c'è spicco più del solito Ermi Armitage oh la la sono sul pezzo oggi vero Ari sono posissima il lunedì è sempre una giornata dura il lunedì sono sempre abbastanza provata lo ammetto questo qui J6 sogni della casa nella casa della strega è uno dei racconti di Lovecraft però è fatto in versione gioco di ruolo cartaceo libro game la chat sta scegliendo una viena esplorata parli anche di temi sociali più impegnativi sì spesso e volentieri spesso e volentieri iniziamo parlando del più e del meno e finiamo per per discutere veramente della qualsiasi sì la chat fortunatamente i ragazzi qui della community sono tutte persone estremamente piacevoli e mature quindi i discorsi profondi vanno via che è un piacere ador bentornato grazie per l'undicesimo mese bellissimo bentornato fra di noi grazie bello grazie grazie per il supporto ma sei stanco o incazzata nera o entrambi perché no nessuna delle due in realtà sei incazzata no no perché incazzata no beh è lunedì lunedì sono sempre un po' provata è lunedì è lunedì per tutti è normale allora piano scientifico quindi UFAM l'enigmatico professor UFAM ritiene che in realtà il nostro universo non sia lineare come è stato ipotizzato finora ma sia piuttosto una sorta di catena o corda ellittica che ondeggia nel vuoto ripiegandosi a volte su se stessa a questa teoria secondo cui applicando la giusta forza chiunque possieda una conoscenza della matematica che superi la mente umana può piegare il tempo e lo spazio può piegare il tempo e lo spazio e attraversare il cosmo verso mondi lontani ragazzi io fino a prova contraria ho una conoscenza della matematica che superi la mente umana perché vi ricordo io sono discalcola quindi tecnicamente la mia matematica supera la mente umana è qualcosa proprio over quindi posso devo provare devo mettermi a fissare gli angolini per vedere se riesco a distorcere lo spazio-tempo ciao Joe buona serata eh appunto capisci ragazzi sono la vostra sono il vostro passepartout per distorcere lo spazio-tempo presente le mie capacità matematiche sono proprio al di là della conoscenza umana ciao Celestra sì stasera Twitch è esploso quindi esatto Valtra vedi Valtra che ha capito tutto che dice quindi non sei goffa fai esperimenti per piegare lo spazio-tempo esatto se tu capisci che io quando vado a sbattere negli angolini perché non so prendere bene le distanze e sono capace di passare cioè di passare sotto una porta e di andare a sbattere con entrambe le spalle prima da una zona e poi nell'altra cioè gli stipiti mi conoscono tutti io ho sbattuto letteralmente su qualsiasi stipite ho preso qualsiasi angolo di qualsiasi tavolo nella coscia cioè quando io vado a sbattere in realtà sto testando per vedere se riesco a piegare lo spazio-tempo è è giusto è logico durante la vostra chiacchierata il professore ti dice che probabilmente durante la vostra la tua indagine sarai tentato di dar credito credito a miti e superstizioni aiuto stasera aiuto per evitarlo ti lascia un elenco di indicazioni e di testi vari di scienziati che ti potranno fornire una spiegazione razionale ai fenomeni più illogici devi concentrarti sulla ricerca delle formule che ti consentiranno di aprire un portale fisico fra le dimensioni e non sulla magia quel portale deve essere sicuramente nascosto all'interno della casa cancella tutti i punti col cultista che hai raccolto finora quindi e ritorna alla casa quindi letteralmente cioè date le spalle alla via della magia e percorrete la via della scienza e della razionalità mi piace forse inesplorato for coming dammini lungo i vicoli bui della periferia di arkham in direzione della mi sono cagata addosso si stavo immaginando nella mia testa i vicoli bui è partito l'alert no raff grazie per il regalo a murgio bad timing ero rilassata sono morta ve lo giuro ma che è successo ma 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 perché mi dice ma che succede raga sono live vero a me twitch mi dice che sono offline però io vi vedo quindi vado avanti ci sarà qualche spirito qualche anima che probabilmente mi sente sì sono live twitch mi dice che sono offline chiedo sento la nostra connessione spirituale siamo sì sì twitch mi dice che sono offline ma va bene cammini cammini lungo i vicoli bui della periferia di arkham in direzione della casa della strega ogni volta che attraversi in passaggi maleodoranti ricoperti di pozzanghere stagnanti nell'area del molo provi la sensazione che qualcuno stia guardando ma oggi tuoi sospetti vengono confermati mentre ti lasci alle spalle le vetrine rinforzate con assi nei pochi negozi ancora aperti ti accorgi della presenza di una figura di curva visibile quanto basta perché tu possa notarla ma lontana a sufficienza da scomparire nel caso volessi seguirla è una donna anziana vestita di stracci grigi che si confondono con le pareti delle case ti fermi un paio di volte per provare a distinguere il suo volto e finisci per pentirtene quando ci riesci lo sguardo maligno e sardonico di una megera dal colorito giallastro ti gela il sangue nelle vene specialmente quando un grosso pipistrello vola sopra il vicolo e quasi ti colpisce quando la creatura scompare ti volti di nuovo verso la vecchia ma è scomparsa anche lei se vuoi affrettarti verso la casa prima che cali la notte vai al 10 se preferisci scoprire chi diavolo è quella donna anziana che ti segue vai al 38 niente a Mau è tornata la banana Mauri metti dentro quella banana quanto la stai spammando cos'è st'impertinenza segui l'anziana oppure andate alla casa allora scegliete voi mie meravigliose investigatrici e miei quasi sul punto di morte investigatori decidete se volete seguire la signora anziana che vi sta spiando oppure se volete tornare alla casa della strega e utilizzare il metodo scientifico che avete appreso fino ad adesso perché le vostre conoscenze matematiche sono fuori da ogni discussione umana Mario c'è anche il Marione ma buonasera guarda i ragazzi sono in punto di morte no ancora no sono vivi dai quindi sei sei al punto giusto sei al punto giusto cotto a puntino è arrivato al momento giusto da cell vanno le moto da pc solo puro love vedi in realtà Mau è tutta una connessione astrale non è casuale questa cosa potete solo amarvi questa sera solo amore allora andate alla casa casa sia bravi non vi siete fatti beitare dalla signora dalla signora ritorni alla dimora in preda uno stato d'ansia che non riesci a comprendere per quanto ci provi ogni volta che cerchi di andare direttamente verso la Ornil ti trovi a vagare per scorciatoie che non conosci e che ti portano inevitabilmente verso sud ovest usando tutta la tua forza di volontà arrivi a casa quando raggiungi il sentiero abbandonato che sale verso la dimora guardi il cielo finalmente capisci è il firmamento che ti chiama le stelle quando provi ad entrare in casa trovi Mazzurewicz il fanatico religioso che vive sotto la tua stanza che ti sta aspettando sembra molto ansioso Gilman ti chiama con voce impastata dall'alcol la luce stai lontano dalla luce viola questa non è una voce impastata dall'alcol è un drogato stai lontano dalla luce viola i sogni sono la chiave sono sulla pedana i sogni la strega ti viene a trovare quando dormi e ti ha scelto prendi questo crocifisso padre Iwanichi l'ha benedetto per te prendilo o prenderanno la tua anima per qualche ragione sei stato scelto non lo so perché è fiorillo di Animal Crossing e non lo so perché non gli ho dato praticamente nessuna tonalità di voce ma va bene così sembra quasi un kermit oh diceva una voce impastata dall'alcol solo che è diventato drogato perché c'era una pedana un panico incontenibile ti stringe la gola e corri all'interno con il fanatico che urla ancora dietro di te se lo desideri prendi il crocifisso e vai a pagina 88 lo prendiamo il crocifisso ma si dai siamo noi per lasciarlo sul tavolo calcol bevi tu solo Belis il Belis ti va a parlare in questo modo non lo sai perché lo bevi solo sulle pedane all'inizio di aprile cominci a preoccupare aprile ho schifato qualcosa aprile what aspetta ho detto ad aprile ok cioè la scena è finita con lui che vi correva dietro è aprile è aprile abbiamo piegato lo spazio del tempo probabilmente all'inizio di aprile cominci a preoccuparti seriamente quando vedi che la febbre che ti tormenta non accenna ad attenuarsi nonostante questo la tua conoscenza della matematica e in particolare delle equazioni di Rienman si è accresciuta in modo esponenziale sei immerso in uno di quei calcoli ispirati dalla semplice contemplazione della parete inclinata quando qualcuno bussa con insistenza alla tua porta anche io spesso mi fisso a guardare i muri in realtà sto calcolando proprio l'altitudine la longitudine della parete apri e scopri che il tuo compagno è il tuo compagno di facoltà Frank Elwood dall'espressione del suo viso capisci che il suo il tuo aspetto deve essere orribile aspetta Frank Elwood non è quello di prima santo cielo Gilman sembri un cadavere vivente ringraziandolo per il complimento gli chiedi che cosa lo porti alla tua stanza dopo tanti mesi perché anche se vivete tutti e due in questo lurido stello finora non si era mai degnato di farti visita beh amico sono un po' preoccupato per il tuo problema dice scuotendo la testa cammini nel sonno sai la tua stanza è proprio sopra la mia e ogni notte sento rumore di qualcuno che cammina alzando le scarpe a meno che tu non abbia una capra nascosta sotto da qualche parte che è nascosto da qualche parte direi che passi la notte a girovagare per la stanza accidenti Frank sono sconvolto ti giuro che quando mi sveglio la mattina i miei vestiti sono ancora al loro posto scarpe comprese allora fai attenzione perché l'alternativa è che qualcuno o qualcosa venga a trovarti nottetempo dai ascolto agli avvertimenti di Elwood ed escogiti un piano per scoprire se sei davvero sonnambulo a pagina 105 non ho capito il salto temporale che ci hanno portato ad aprile ma mi fido cioè qui stiamo piegando lo spazio tempo quindi probabilmente riusciamo a entrare negli angolini e avete visto che la matematica fa impazzire? io lo dicevo sempre a mia madre ti metti d'accordo con Elwood il caso sentisse di nuovo quegli strani passi salirà per vedere che cosa succede accetta di buon grado inoltre ti suggerisce di spargere della farina nel corridoio per vedere dove te ne vai durante la notte dal momento che la tua stanza ha solo un'uscita la porta principale l'unica altra opzione è la finestra che dà sul vuoto quello che accade nelle tre notti che seguono è inspiegabile Elwood giura di essere salito di corsa dopo aver sentito i passi pensando che non ti sarebbe dispiaciuto farti svegliare nel bel mezzo della passeggiata da sonnambulo ma quando è entrato nella tua stanza l'ha trovata vuota con i tuoi vestiti piegati con ordine al loro posto questo significa che devi aver camminato a piedi scalzi e in pigiama vicino per la casa la cosa ancora più sconvolgente è che Elwood non è riuscito a trovare le tue impronte nella farina se il professor Hupam ti ha dato una lista di testi vai al 7 oppure se ad un certo punto sei entrato in contatto con Necronomicon vai al 53 altrimenti al 69 il signor Hupam vi ha dato una lista di testi ma voi siete anche entrati in contatto con Necronomicon c'è da dire che voi avete scelto il metodo scientifico e non avete punti cultista quindi do per scontato di dover scegliere i testi del professor Hupam siete anche entrati in contatto con Necronomicon sì ma Hupam mi ha dato dei testi avete parlato voi con Hupam dalle conversazioni che hai avuto col professor Hupam una delle cose che ha attirato maggiormente la tua attenzione è che in molte culture i sogni sono stati considerati portali per altri mondi credi che usando la tua forza di volontà potresti dirigere i tuoi sogni in una direzione o nell'altra sei pienamente convinto che in qualche modo Kezia Mason abbia nascosto nella parete inclinata la formula per aprire portali nel mondo dei sogni questo è il motivo per cui la tua mente si rifiuta di farlo consapevolmente e le equazioni complesse necessarie per piegare il tempo e lo spazio possono essere risolte solo durante la fase REM nelle notti seguenti ti dedichi alla meditazione per facilitare il controllo consapevole dei tuoi sogni d'ora in avanti pensi che sarà in grado di pilotare i tuoi viaggi onirici oh 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 sì adesso potete scegliere voi dove andare mentre sognate sogni controllati dopo la conversazione con Elwood sei certo che i tuoi incubi vadano oltre il puro stato onirico inizi a prendere nota delle tue proiezioni astrali e provi persino a indurre questi sogni raccapriccianti nella tua mente stanca durante la notte fra il 19 e il 20 aprile sperimenti uno dei tuoi vividi incubi nell'abisso senza forma fluttui con un agglomerato di bolle guidato da un poliedro che galleggia sopra di te quando noti gli angoli stranamente regolari del bordo dell'abisso un momento dopo hai lasciato l'immensità distorta e sei su un pendio roccioso immerso in un'intensa luce verde ora ti accorgi che sei scalzo indossi solo il pigiama ma sei tornato nella tua forma umana e puoi persino sentire l'umidità che invade le ossa un mulinello di nebbia spesso come vapore nasconde ogni cosa a livello del suolo e puoi a malapena sollevare i piedi per fare un passo estremamente azzeccato roxy una cacofonia distante ti mette in allarme madonna posso avere un campanellino di avviso prima che parta l'alert quando sono concentrata e rilassata mattia brick grazie per questi 18 mesi di supporto e per il capello bianco che probabilmente mi spunte grazie mattia bentornato grazie mille per il supporto ecco l'allarme mannaggia prosegui no non è vero che prosegui ho sbagliato di qua non prosegui niente un mulinello di nebbia spesso come vapore nasconde ogni cosa a livello del suolo e puoi a malapena sollevare i piedi per fare un passo una cacofonia distante ti mette in allarme sembra provenire da qualche parte nella nebbia è come se due creature mostruose comunicassero l'una con l'altra con voci bestiali all'improvviso due forme avanzano verso di te la vecchia e l'animale peloso le braccia di lei sono incrociate in un modo completamente anomalo come se le sue articolazioni potessero piegarsi in direzioni naturali mentre l'animale brown jenkin ti indica la direzione dalla quale provengono quegli orribili suoni tipo piegate in un modo naturale tipo così ti hai imparato a controllare in qualche modo i tuoi sogni vai al 28 altrimenti continuo a leggere al 44 no voi li sapete controllare i sogni l'avete imparato grazie al professor Upan le sub le sub sono aggiornate sì yes nello stesso istante in cui il mostruoso servitore della strega ti indica il vuoto capisci che in qualche modo queste creature non sopportano la tua presenza qui una forza incomprensibile inizia a spingerti via da quella collina che ora riconosci come una versione selvaggia e piena di vita sebbene un pelo della lili mi stia divastando un occhio sebbene una vita strana e aliena della collina dove sorge la casa della strega Opponi resistenza resistenza Opponi resistenza per non essere espulso e combatti contro la manipolazione dei due esseri questo sembra agitare enormemente la megera che ora si muove verso di te in modo inesorabile ma con grande sforzo come se stesse guardando l'oceano Anche se sei spaventato mantieni la posizione Gli ululati che avevi sentito in lontananza si fanno più vicini proprio come la vecchia Chesia La mano rugosa e senza unghie della strega si avvicina al tuo petto il lentatore e non puoi far altro e non puoi far a meno di notare i suoi lineamenti consumati dal tempo Bruta con una faccia contorta da una smorfia di odio che non è umana Gli occhi sono privi di palpebre e di pupille sono velate dal tempo buscate da cataratte sclerotiche che conferiscono loro un colore grigio opaco Sembrano gli occhi di una piovra qualche altro anime io mi dissocio dalla mia capacità di lettura di stasera cioè proprio nope Sembrano gli occhi di una piovra per favore una provra una piovra o di qualche altro animale marino che per mancanza di umidità hanno perso il loro splendore fino a diventare smerigliati raga stasera va così colpa del lunedì ora sei tu che cerchi di scappare ma non ci riesci una spinta violenta ti fa volare nella direzione opposta e rotoli giù dalla collina quando riesci a rialzarti non c'è più traccia delle due creature e ti trovi in un posto completamente diverso un po' disorientato inizia a camminare attraverso una brughiera scura ricoperta da una densa nebbia che sembra estendersi in tutte le direzioni qualcosa è cambiato in questo incubo la sensazione di realtà è così intensa che ti rendi conto che stai indossando gli stessi abiti di quando sei andato a letto sei in pigiama marito in una palude senza alcun punto di riferimento o aiuto per orientarti sembra di camminare in direzione sud ma è poco più di una semplice speculazione basata sul fatto che il terreno è leggermente inclinato in quella direzione il cielo è un vortice di nebbia grigia che ricorda vagamente le formazioni nuvolose che preludono una tempesta finalmente dopo una lunga marcia senti il rumore di voci e risate che arrivano da un punto sopraelevato rispetto alla coltre di vapore che ricopre il suolo fermi e osservi sono dei bambini che giocano con un cane lanciandogli un bastone per farselo riportare se vuoi puoi andare incontro ai bambini al loro cane oppure puoi allontanarti quindi potete andare contro i bambini che lanciano il bastone al cane oppure vediamo se bambini oppure bene andate pensate che sia meglio andarvene decidete voi se volete avvicinarvi ai bimbi oppure puoi dire si praticamente siete a silent hill quindi decidete sia silent hill vi fidate dei bambini oppure no è una host che uso spesso per lovecraft melis è molto horror molto cupa mi piace è un po' pazzoide a quei momenti lovecraftiani che è vero manuel ricorda molto quella scelta quella del vicolo ah vedo una bella lotta tra fuggire e andare dai bambini vedo un bel combattimento serrato stava per finire al 50 e 50 ma i bambini hanno rimontato con un bel 52% quindi bambini diffidente ma allo stesso tempo lieto di vedere altri esseri umani in questa brughiera corri verso l'isolotto dove giocano i bambini avanzi goffamente inciampando nei cespugli che ricoprono il suolo e si aggrovigliano ai pantaloni del tuo pigiama raffiandoti la pianta dei piedi finalmente raggiungi la meta e vedi che sono una dozzina di ragazzi e ragazze hanno la carnagione scura l'aspetto disordinato lanciano un grande osso che il cane raccoglie e riporta sempre indietro ai suoi padroni uno di loro lo lancia nella tua direzione e il cane si getta a rincorrere il suo gioco guardi in basso l'osso è un pezzo di femore dal quale spuntano copri con orrore piodi arrugginiti in tutte le direzioni il cane arriva in fretta e chiude le mascelle per raccoglierlo togli lo sguardo e urli implorando di non farlo non lo vedi ma il rumore del palato e delle mascelle quando vengono trafitti è altrettanto spaventoso per fortuna è solo un sogno o no? dai vieni a giocare con noi non vuoi giocare con noi signore desideri affrontare i bambini e porre fine a questa tortura? oppure preferisci andartene da qui il più velocemente possibile? affrontate i bambini oppure damose cioè proprio gelate velocemente molto molto velocemente ah che bei bambini scusa Dontino non volevo interrompere il tuo studio sei bravo proc è ramino giocare ramino cosa c'erano i biscotti la trementina idea non condivide la vostra scelta ragazzi per favore non mi deludete idea che vi ricordo che porta un nick di cui avere paura io non farei arrabbiare idea se si arrabbia idea siamo fregati non c'è rinoa che vi viene a salvare qua damose ok quindi fuga fugone quindi con estremo coraggio guardate i bambini e gli dite ciao fuggi ma la nebbia si infittisce lo sforzo ti brucia i polmoni oppure è colpa dei vapori mefitici di questa palude i bambini perdono rapidamente interesse per il cane si lanciano a inseguirti e loro risate aumentano mentre il tuo fiato diminuisce in breve sono addosso è un ronzio assordante come se stessi camminando in una nuvola di mosche nascoste nella nebbia uno dei bambini compare davanti a te e ti guarda con occhi maliziosi tant'è prima di balzare sulla tua gamba e morderli vedi suoi denti affilati e gli occhi rossi con le pupille dilatate al punto da occupare quasi tutta la sclera cerchi di urlare ma dalla tua bocca esce solo quel ronzio disgustoso siamo i sacrifici che non sei riuscito ad evitare ti dice il piccolo essere demoniaco sei un fallimento liberi dai suoi denti con un calcio i bambini continuano a giocare con te uscendo dalla nebbia per morderti raffiarti o semplicemente sputarti addosso all'improvviso qualcosa ti afferra per un braccio non è un bambino quello che ti guarda con occhi selvaggi sei tu cerchi di parlare dalla tua bocca emerge solo una nuvola di tafani grossi come bombi giocare col cagnolino dici a te stesso con una voce che non suona del tutto umana brown jenkin viene per noi mentre dormi lasci andare provi a correre solo per vederti circondato da dieci o dodici bambini di età diverse sei morto gilman lei stai arrivando lei sta arrivando per te non riesci più a vedere l'altro te stesso ma solo le facce dei piccoli e le ferite aperte sui loro colli ora la vittima sei tu oh guys quante volte volete morire stasera quanti checkpoint vi devo dare quanti checkpoint vi devo dare stasera eh allora ditelo allora con le mie capacità matematiche sovraumane chicherò lo spazio-tempo rewind sono i bambini tirano il bastoncino al cane il bambino riporta il cane no il bambino riporta il bastone cane bastone vai a prendere il cane lanci il cane il bastone lo riprende e te lo porta indietro e ok siamo tornati indietro in un universo nello spazio-tempo in cui i bambini ancora lanciano i bastoni e i cani li riportano indietro e li potete affrontare li volete affrontare o li volete affrontare no perché la risposta giusta è affrontarli quindi se li volete affrontare vai l'accendiamo va bene tronic no stasera non si può taggare funzionano i tag tronic quindi non preoccuparti sei giustificato stasera la democrazia fa schifo è sopravvalutata sono d'accordo ok quindi torniamo al mondo in cui non siete ancora stati spappolati dai bambini e tu vai veloce come il vento ah oddio la canzone infatti stavo stavo cercando di capire ciò che canzone è rewind si che bella quella canzone ti metti in mezzo fra l'animale e l'orda di bambini e quelli si radunano intorno a te sono più di una dozzina e sono scuri in modo anormale anche attraverso la nebbia non riesci a vederli troppo bene sei sicuro di aver fatto una cosa molto stupida ma del resto stai solo sognando andate via gridi loro andate via o dovrò farvi del male i bambini iniziano a ridacchiare con voci acute che ti danno ai nervi poi il cane che stavi cercando di proteggere si alza e cammina verso il cerchio trascinando le zampe posteriori ma non sta andando verso i bambini una creatura oscura e allungata emerge dalla nebbia uomo senza volto e completamente nero alto circa due metri i bambini gli fanno spazio è il cane che ora si è trasformato in una sorta di segugio deforme e vaporoso che accuccia ai piedi del nuovo venuto prima di poter reagire e anche tu a muoverti verso di lui o piuttosto come se ogni cosa attorno a te si spostasse nella direzione opposta finché non ti trovi a faccia a faccia con l'essere gigantesco sei mio Hillman le unghie nere ti graffiano il polso le tue gocce di sangue cadono sulla mano dell'essere guadagni due punti cultista e vai al 44 o voi mosso da una forza inesplicabile strisci in avanti seguendo la traiettoria del braccio della creatura ti senti espulso dal paesaggio desolato e ritorni a vagare di nuovo negli abissi informi una delle masse amorfe di materia organica ti sbatte contro e ti fa cadere lungo una spirale vertiginosa finché ti svegli nel tuo letto quando apri gli occhi trovi circondato dai tuoi vicini mentre ti contorci e tremi come un pazzo Joe Mazzurewicz è in piedi davanti alla porta e prega per la tua anima sei riuscito a sopravvivere agli orrori che hai incontrato solo grazie alla tua incredibile forza mentale deve andarsene signore ti grida quando apri gli occhi la luce la luce continua a delirare mentre ti punta contro il crocifisso calma Joe Paul Chionsky un altro degli inquilini si piazza fra te il fanatico per calmare i nervi è Chionsky comunque Chionsky Chionsky sì questo sembra molto complicato in effetti c'è alcune morti infatti vi sto dando dei checkpoint a questo punto perché sono effettivamente morti è proprio trial error questa parte Joe stava rientrando dai festeggiamenti del Patriots Day ieri notte quando ha visto una luce violetta uscire dalla finestra della sua camera la luce violetta chiedi perché non capisci cosa stiano dicendo la luce che accompagna la strega quando viene per rivendicare un'anima lo sanno tutti bigottito inizi a riflettere mentre i tuoi vicini se ne vanno quella luce ti è sicuramente familiare ma l'hai vista solo nei tuoi sogni com'è possibile che Mazurewicz conosca a chi va ragazzi ciao Alex buonanotte ciao Persepolino buonasera dopo questa esperienza credi di cominciare a capire che cosa sia quel posto dove ti hanno portato i tuoi incubi nei giorni seguenti l'impulso di viaggiare verso sud ovest diventa un'ossessione quando meno te lo aspetti ti ritrovi a guardare in quella direzione trascorri le tue giornate combattendo il desiderio di sederti per ore a fissare un punto vuoto sul pavimento della camera proprio dove il muro incontra le assi di legno marcio quando lo fai provi come una vertigine e ti assale un mal di testa inspiegabile non c'è dubbio che sia legato all'attrazione verso sud ovest e poi hai una rivelazione stelle qualcosa nelle stelle che ti chiama e ti desidera al tempo stesso all'inizio di marzo di un incubo completamente diverso dagli altri vedi la solita luce viola che scivola lungo il muro inclinato e vieni svegliato da un bagliore naturale in cui mescolano tonalità giallastre e un flusso di luce indaco che scende su di te come una cascata indaco eh oh shit here we go again ti trovi su una terrazza ad un'altezza incredibile la balaustra che ti circonda ti dà malapena un minimo di sicurezza ai tuoi piedi c'è una bizzarra giungla di picchi pupole minareti dalle forme folli e innaturali sei in cima ad una città infinita illuminata da tre soli a forma di disco che ti sembrano quasi sospesi alla volta celeste come se fossero lampade e non stelle lontane ti afferri alla balaustra con terrore strappi uno dei suoi ornamenti una statuetta di metallo a forma di botte con protuberanze o bulbi che spuntano dove dovrebbe trovarsi la testa e braccia sottili che si irradiano da un anello centrale e creano assieme alle gambe una formazione simile a quella di una stella marina il pavimento ricoperto di lastre nere che ti bruciano i piedi poi senti un rugito bestiale qualcosa di gigantesco che arriva da lontano se nel corso dell'avventura hai ottenuto più di quattro punti cultista vai al 107 altrimenti continuo a leggere a pagina 60 sì però ve li aveva anche cancellati tutti i punti cultista però voi li avete ottenuti sto cercando di pensare se perché voi in realtà sì li avete ottenuti ne avete ottenuti parecchi però a un certo punto ve li ha praticamente ripuniti eravate a due punti quindi tecnicamente non credo di doverveli contare da uno dei corridoi che collegano la città inferiore con l'enorme struttura si vedono cinque figure che si avvicinano silenziosamente fra di loro riconosci la vecchia e il suo orribile animale da compagnia mentre il resto sono creature alte circa 5 metri repliche esatte ma vive della statuetta che ornavano la balaustra si in effetti dice se li avete ottenuti voi li avete ottenuti però poi ve li ha ripuliti eh guardate bella vista eh cose rassicuranti sì però ne avete tre quindi in tutto ciao tonining è Lovecraft è un libro game gioco di ruolo cartaceo versione libro se vuoi giocare con noi sei il ben arrivato non siete tornati indietro quel check point beh sì eh sì che siete tornati indietro però non vi ha weppato i punti eh siete a due prima che possano raggiungerti perdi conoscenza quando apri gli occhi ti ritrovi sdraiato nel tuo letto zuppo di sudore con una curiosa sensazione di bruciore a mani e piedi la necessità di lasciare la tua stanza e correre verso nord è così pressante che non puoi resistere ti vesti in fretta e barcolli fuori i tuoi occhi sono fissi su un punto nel cielo specie di disco di una tonalità più bluastra del resto del firmamento dopo un'ora riprendi il controllo del tuo corpo e ti rendi conto di aver raggiunto la periferia della città attorno a te si estendono paludi oscure e una strada sinistra si apre in direzione della famigerata città di Innsmouth un covo di pescatori che poche persone visiterebbero di propria iniziativa tuttavia senti la necessità di percorrere i chilometri che ti separano da quei vicoli coperti di muffa e salmitro cosa fai? tornate alla vecchia casa prima che scenda la notte oppure cedete al desiderio di scoprire che cosa vi attira in quella città maledetta quindi votate volete andare a esplorare la città maledetta o tornate velocemente a casa votate se volete andare a esplorare la città Innsmouth la città dei pescatori oppure se ne tornate a casa Se ci ha tolto i punti non li abbiamo ottenuti è sbagliato per logica Sì se vi li ha tolti vuol dire che non li avete più quindi avete solamente due punti Sì è giusta questa scelta Allora in realtà questo Melis è abbastanza per novizi nel senso che questo è molto interattivo quindi è proprio stile libro interattivo più ancora che libro game i libro game quelli che facciamo noi di solito sono un po' più complicati nel senso più stile Dungeons & Dragons più gioco di ruolo quindi hai l'inventario combattimenti tiri di dado craft anche altre cose gestione delle abilità questo no perché questa è la versione un po' più easy infatti io lo consiglio sempre questo qua alle persone nuove nei giochi di ruolo cartacei stile libro game proprio perché a differenza di altri libri game tipo Oberon Lupo Solitario Bloodsword o altri che sono un pelino più complicati questi qua sono semplici sono letteralmente interattivi vanno bene per i novizi quindi a 47 considerate che Lupo Solitario è totalmente ispirato da Dungeons & Dragons Joe Deaver era era un master incredibile in Dungeons & Dragons lo scrittore di Lupo Solitario resistendo all'impulso di tornare subito in città ti fermi a pranzo fogli alcune riviste mentre le persone ti guardano come se fossi un mendicante o un pazzo dopo aver mangiato entri in un cinema senza curarti nemmeno di che film stiano proiettando e lasci passare le ore guardandolo più e più volte fino a quando finalmente scende la notte in quel momento ritorni sulla Ornil desiderando disperatamente di sognare di nuovo no Kage voi avete scelto il metodo scientifico per questo avete perso tutti i punti magia avete perso i punti cultista in quel momento ritorni sulla Ornil desiderando disperatamente di sognare di nuovo quando entri nella tua stanza nel sottotetto e accendi la luce vedi che c'è qualcosa sul tavolo che non ti aspettavi di trovare stesa su un fianco perché le manca la base c'è l'esotica statuetta del tuo sogno mostruoso della scorsa notte il centro a forma di botte le lunghe braccia simili a raggi le protuberanze su ciascuna estremità il sordito la prendi e la esamini rotta esattamente negli stessi punti in cui nei tuoi sogni si era spezzata se vuoi esaminare la strana immagine vai al 97 se invece non ne vuoi sapere più nulla di tutto questo mistero puoi andare a letto e aspettare la prossima visita notturna quindi volete esaminare la statuetta oppure nope correte a dormire e ve ne fregate di tutto statuetta oppure andate a dormire votate sicuro assolutamente sì lupo solitario è molto ispirato da Dungeons & Dragons hai appunto inventario craft abilità tiri di dado oberon il mago è ancora più difficile di lupo solitario perché è la versione come lupo solitario con in più l'alchimia e la gestione del mana perché hai anche le magie oltre che le abilità io lo tenevo più o meno a 60 Mau lo tenevo circa a 60 non di più che è successo a canon eco ah non sapete più che fare in effetti è abbastanza spiazzante questo qua è un po' ma credo che sia proprio il racconto della strega che sia un po' fuori di testa perché ci sono questi salti temporali continui questi viaggi onirici sono i viaggi nei portali tra i sogni quindi è un po' complicato questo qua statuetta ok notti a chi va ciao pietro non preoccuparti buonanotte grazie per la compagnia di dire a sara in realtà qui penso avrei scelto anche io la statuetta perché sono curiosa avrei guardato anche io la statuetta anche se probabilmente vi porta un po' di follia la prima cosa che fai è chiedere alla signora Dombrowski se è stata lei a mettere la statuetta nella tua stanza ma la donna ti risponde gentilmente che l'ha trovata sul tuo letto dalla parte del muro e siccome non sapeva cosa fosse l'ha appoggiata sul tavolo deve sicuramente trattarsi di qualcosa che è legata al tuo sonnambulismo perciò decidi di cospargere di farina tutto il pavimento della tua stanza per vedere se davvero ti alzi nel cuore della notte per rapinare musei o negozi di antiquariato ti standi sul letto troppo stanco anche solo per riflettere con chiarezza come con chiarezza e il rumore dei ratti che scorrazzano sulla tua testa ti tormenta fino a quando non ti addormenti profondamente un lampo di luce violetta inizia a brillare nella stanza più intenso di quanto tu possa sopportare e poi li vedi chiaramente la megera e la creatura pelosa con zanne affilate ti afferrano per le braccia e ti trascinano via dal letto prima che tu possa reagire all'improvviso ti lasciano cadere in un vuoto immenso dove senti il rugito di una bestia gigantesca subito dopo ti svegli al centro di un luogo chiuso angusto e trascurato delimitato da travi grezze e assi che si sollevano a formare un angolo sopra la tua testa e un curioso pavimento inclinato sotto ai tuoi piedi sul pavimento ci sono delle casse piene di libri molto antichi dritti in lingue diverse e in diverso stato di conservazione al centro della stanza ci sono un tavolo e una panca inchiodati precariamente al pavimento a sinistra della panca c'è un buco triangolare dal quale si arrampica l'essere peloso accompagnato da un bagliore violetto c'è un grosso libro aperto sul tavolo e la strega dica ridendo se hai guadagnato più di 6 punti cultista o semplicemente vuoi vedere cosa c'è scritto sul libro vai al 54 se invece cerchi di resistere e fuggire dalla morsa della strega vai al 50 non avete più di 6 punti cultista perché appena vi si sono appunto azzerati quindi potete curiosare nel libro oppure gite aspetta sciocchi votate voi non avete punti cultista quindi volendo potete provare a resistere a richiamo della strega e provare a fuggire a meno che non siate così curiosi da voler vedere il libro e altro a meno che non vi sembri una buona idea guardare lì quanti checkpoint vi devo dare stasera quanti checkpoint devo dare amadorè madonna niente o stasera sono proprio si vede che stasera sono stanca perché salto per ogni per ogni alert mo si grande curo ci avviciniamo ai tre anni ma io morirò prima anche se scrivo poco sempre contento di seguirti e supportarti grandi grazie mille smonsi grazie per questi 33 mesi di supporto no stasera raga va così proprio sono boh stasera cos'hai boh non lo so magari sono sarò stanca senza rendermene conto perché faccio i salti chi è esatto anche te greg grazie smonsi grazie mille per la risub non preoccuparti sono io che stasera salto ho iniziato con la prima sub facendoti saltare di brutto che no ma anche prima forse un po' di stanchezza facci i salti no k'pon vieni che carino k'pon grazie mille k'pon per il sesto mese di resub ma magari guarda che mi sa che siete alla fine penso che siate alla fine del libro ma grazie mille k'pon grazie per questo sesto mese di supporto ti avvicini al volume e scorge una creatura spaventosa che era nascosta fra le ombre della soffitta piedi accanto al tavolo è un uomo molto alto e magro dalla pelle nerissima ma senza avere nessuna caratteristica fisica da nero è completamente calvo non sa solo una tunica nera in forme ti avvicini a quello in preda al terrore e l'essere scorge una penna grigia mentre indica il libro a quel punto la creatura pelosa salta sul tavolo e ti morde il polso sangue gocciola lo usi per firmare felicemente il protomo con la folla e soddisfazione di tutti i presenti vieni e guadagni tre punti e siete a cinque punti ti svegli con una strana macchia di sangue sul polso proprio sotto il polsino della camicia guardando per terra vedi che la farina è intatta nessuno è entrato nella tua stanza però deve essere stato un topo a morderti il braccio pure non ci sono segni di sangue sul letto nonostante la tua mano sia ricoperta è il momento di chiedere aiuto raccogli la misteriosa statuetta e uno strano bisogno di scappare dalla casa prende il sopravvento la porti nella stanza di Elwood e gliela mostri quello che però attira davvero la sua attenzione è il tuo aspetto orribile che insiste che lo accompagni all'università dove non vai da molte settimane e lo assecondi allontanandoti dalla casa farà sicuramente bene Elwood Elwood progetta un piano per sottrarti dalla sinistra influenza della tua stanza ora che si avvicina la notte di Valpur oh la notte di Valpur attenzione la notte delle streghe la notte Elwood insiste perché tu ti trasferisca nella sua stanza e decidi di accontentarlo per tre giorni la febbre sembra remissione e ti concentri alla ricerca di maggiori informazioni sulla strana statuetta fortunatamente nessuno sembra in grado di riconoscere le origini o addirittura di identificare il materiale con il professor Ellery sostituto del professor Pabodi di geologia rileva alcune tracce di platino e tellurio combinati in una strana lega con altri materiali di peso anatomico indefinito atomico scusate peso atomico tu ed Elwood tornati a casa impegnati in una discussione accesa su come quella cosa possa essere finita fra le tue mani e insisti che sia stata Ketia la strega a dartela in uno dei tuoi sogni usando qualche genere di conoscenza ancestrale per poter viaggiare attraverso portali dimensionali dopo ore passati a discutere se fosse possibile per le streghe posso dire saperi remoti e sorprendenti siano ben presto a emergere i nomi di antichi tomi maledetti e indicibili come quello del terribile Niharlathotep il messaggero degli dei proibiti non appena inizi a raccontare dei tuoi incontri con quegli esseri il giovane Elwood pone fine alla conversazione con un categorico rubaccia senza senso superstizioni poi spegne la luce e andate a dormire e fino a questo momento hai guadagnato più di 9 punti coltiva va al 57 altrimenti inizi a sognare al 35 non ne avete più di 9 e li ha cancellati quindi adesso ne avete 5 la cucchiara anche se assente fisicamente passo a dare il mio piccolo supporto buonasera a te alla community più bella e pulita di Twitch un abbraccio Sara un abbraccione a te la cucchiara grazie mille grazie 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 guarda ti abbraccio forte 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 grazie per il tuo supporto come sempre grazie mille la cucchiara guarda i ragazzi che ti spavano un sacco di cuoricini che sono tutti gasati che li hai chiamati belli eh la cucchiara che vi fa i complimenti ha detto siete belli e dal 35 o al 34 personale ok 9 4 ancora una volta i ruggenti abissi di vuoto in forme si aprono davanti ai tuoi occhi e finisci in mezzo a un vicolo fangoso che ti è familiare sei in piedi vestito col tuo pigiama jace ben arrivato ben arrivato anche a te ma grazie per il supporto jace oh tra l'altro è partito il treno è partito un treno serale wow questa surprise non parte quasi mai il treno la sera grazie mille grazie jace grazie grazie per il supporto è ben arrivato un trenino serale sei in piedi vestito col tuo pigiama di fronte alla porta amarcita di una casa di quattro piani sembra abbandonata ma in realtà è abitata dai più poveri fra i migranti che si ammassano nella periferia di Arkham l'uomo con gli abiti fluttuanti è di fronte a te braun jenkin si strofina contro le caviglie dell'uomo nero come un cucciolo affezionato braun jenkin e lui l'essere in forme indica la porta e la strega striscia in un corridoio dalle pareti scheggiate trascinandoti per la manica la vecchia Kezia ti conduce a un pianerottolo dove risuonano grida e preghiere che non capisci la strega ti ordina di fermarti che precipita all'interno della casa grido a tutito arriva alle tue orecchie e dopo qualche istante eccola uscire con una piccola forma inerte che deposita tra le tue braccia riesci a sopportare la vista di quel rigonfiamento e la risata perversa del piccolo mostro dai denti appuntiti in risposta al pianto che esce dal fagotto se hai guadagnato 12 punti cultista nel corso dell'avventura vai al 101 oppure ti svegli al 94 vi svegliate al 94 riuscite ad uscire da questi sogni maledetti notte a chi va ragazzi notte notte riposo è mattina e vieni svegliato dalle urla dei vicini a quanto pare un bambino di due anni figlio di una lavandaia polacca di nome Anastasia Volienko è stato rapito è che si muore ma no ma perché ma speriamo di no il trenino prima di andare a nanna domani si lavora buonanotte Kalas e grazie mille grazie anche a te Aravad però speriamo che non si grazie anche a Mau che ha regalato la sabba stream element così abbiamo i messaggini almeno grazie grazie so che molti anonimi regalano la sabba stream element io ci metto la faccia grazie mille a quanto pare un bambino di due anni figlio di una lavandaia polacca di nome Anastasia Volieko è stato rapito ma ciò che ti colpisce di più sono le dichiarazioni dei testimoni che affermano di aver visto i colpevoli a girarsi nella zona uomo nero molto alto una vecchia vestita di stracci e un ragazzo in pigiama Emrys Joe chissà chi era ragazzo in pigiama non voi grazie Emrys grazie mille anche a te sei attanagliato dalla paura e non riesci a pensare ad altro ora tutto ha un senso le visite notturne il sonnambulismo la statuetta i sogni nella casa della strega sono reali la Megera è venuta davvero a trovarti e ti ha portato con sé attraverso il tempo e lo spazio questa notte la signora Dombrovski proteggerà tutte le porte e le finestre si dice che il sabba si riunirà di nuovo alla pietra bianca di Meadows Hill ma i tuoi vicini vogliono essere sicuri che nessuno osi avvicinarsi a te ti mettono a guardia della tua porta a Mazzurewick e Mazzurewick prega senza sosta ma man mano che avanza la notte lo strano suono si impone su tutti gli altri vedi Elwood che si addormenta profondamente e prima di perdere conoscenza senti qualcuno alla porta Renino notturno non può certo rimanere in stazione mi spiace non essere riuscito a seguirti oggi pomeriggio odio il secondo turno per questo motivo no non ti preoccupare piuttosto fare sempre notte o primo già mi manchi un sacco durante la domenica e poi devo aspettare ulteriormente si fa ardua no mi piace Vanquish mannaggia dai stai qua con noi un pochino stasera io lo so purtroppo che i miei orari pomeridiani sono molto difficili per parecchi di voi che appunto lavorano il pomeriggio per questo cerco di fare anche le live serali in modo che possiate seguire un po' tutti tranquillamente ecco perché la sera magari è più comodo mettiamoli tutti questi viz che avevo comprato sabato ma me li ha caricati solo oggi grazie Kalas grazie siete carinissimi ragazzi anche Rikimaru grazie grazie anche a te per questi 500 viz grazie a tutti voi grazie per il supporto gli abissi crepuscolari si riacci oddio ma mi sto prendendo degli accidenti stasera che la metà basta ma grazie abbiamo completato il primo livello del trenino grazie ma ti hai regalato la sabba al collezionista di waifu a legends ad iborn twitch e ad alex ben arrivati mao grazie grazie mille veramente grazie anche se ho impartato malissimo però grazie grazie per questo regalone treno a quest'ora ero impreparato anch'io mazalster anch'io mazalster mazalster con me si siete tanti ma faccio il possibile raff lo sai si no stessi giorni in realtà non ci ho giocato tantissimo ma appena lo apro vi accetto assolutamente raff mi sono ah si bambino ok sopra un tavolaccio c'è la figura pallida di un bambino nudo e privo di sensi mentre la vecchia dagli occhi morti è al suo fianco e canta una nenia in una lingua che non conosci spero qualcuno può prendere le mod di questo treno già avete fatto una cosa molto carina in quello stesso momento appare l'esserino chiamato jenkin esce da un buco triangolare mi sa che è meglio se aspetto la fine del treno spingerò anche il treno grazie mille armi grazie anche a te grazie mi unisco anche io al trenino aspettiamo ho capito grazie Luke grazie anche a te il trenino durante la serata rpg è tipo è malefico no no non si può fare il trenino durante la serata rpg almeno non durante la libro game tipo se parte all'inizio è meglio ma non parte perché non parte all'inizio in quello stesso momento appare l'esserino chiamato jenkin esce da un buco triangolare sul pavimento la strega ti consegna una ciotola e ti fa segno di tenerla in una certa posizione sopra l'apertura triangolare non riesci a credere non riesci a credere ai tuoi occhi la vecchia Kezia solleva un grosso coltello rituale dalla lama dentata sulla testa del bambino mentre jenkin nel ratto lo tiene fermo con le sue piccole mani umanoidi propondo senso di orrore si fa strada attraverso la paralisi mentale che ti afflì lasci cadere la ciotola che risuona col clangore metallico di una campana valse sulla vecchia e le strappi coltello dalle mani lanciandolo attraverso il buco da cui iniziano a uscire i lamenti soffocati e un canto di invocazione quando vede che ti sei liberato dal suo potente incantesimo gli artigli della strega si chiudono attorno alla tua gola se nel corso della tua indagine hai trovato un crocifisso vai al 20 altrimenti vai al 106 sì l'avete trovato il crocifisso come no ce l'aveva il tizio il crocifisso che va anche detto che il vostro vicino di casa aveva il crocifisso scusa mi mancava l'alert ma come tonic eh sì dopo un po' che non lo senti l'abbiamo trovato il crocifisso sì l'aveva sì sì ce l'avete l'aveva trovato ce l'aveva il vostro vicino con uno sforzo sovrumano riesci a infilare la mano sotto la camicia e tirando l'icona di metallo con tutte le tue forze riesci a spezzare la catenina e a far uscire il crocifisso quando lo vede la strega emette un grido di terrore e allenta la presa consentendoti di sfuggire ai suoi artigli afferri la megera per i capelli che si strappano a ciocche mentre la trascini verso l'abisso triangolare ora capisci non è altro che il muro inclinato che ti attraeva così tanto è una porta prendi la catena del crocifisso e la tiri attorno al suo collo abbastanza stretta da togliere il fiato ti fidi di me mao grazie per il regalo a valerius ma come mi sa che gli era appena scaduta grazie mille mao grazie 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 prendi la catena mao allo stesso tempo ti accorgi che brown jenkin è corso in aiuto della sua padrona e ti sta mordendo con furia e polpacci con un calcio lo lanci oltre l'orlo del buco e lo senti schiantare contro qualcosa di gelatinoso non sai se hai ucciso la strega ma smesso di dimenarsi quindi la lasci stesa sul pavimento eri così preso dalla lotta contro i due mostri che non ti sei accorto che brown jenkin ti era occupato del bambino indifeso che giaceva sul tavolo e il ricettacolo di metallo ora è pieno del suo sangue nel tuo delirio senti ancora la sinistra risata dell'uomo nero che riecheggia nella stanza infinita in quel preciso momento la luce viola sparisce e lascia ti lascia nella sicurità più assoluta con un grido di aiuto che fa tremare i muri ti svegli nel tuo letto in preda violente convulsioni presto un medico locale il dottor malcoschi ti pratica due iniezioni che ti fanno cadere in un sonno profondo forse se avessi potuto parlare avresti rifiutato ma non solo ti ritrovi cieco sordo e muto i tuoi timpani si sono rotti come a causa di un suono troppo forte ti hanno portato via da quella stanza orribile e ti trovi in quella del povero Elwood è convinto che l'unica soluzione sia quella di portarti fuori dalla casa il prima possibile cosa che farà appena arriverà all'alba ma Aurewix accorge che il tuo crocifisso è scomparso e hai degli strani segni di bruciature sulla gola ma l'orrore non è ancora terminato interrompere i piani di creature sinistre che cospirano al di là del tempo porta con sé una punizione proporzionata alla tua insolenza inizia ad agitarti in modo violento mentre dalla tua bocca sfuggono grugniti e canti di natura disumana la grande macchia rossa appare sulle tue lenzuola ed Elwood può solo accorrere per aiutare a trattenerti Dombrowski Chionsky The Strokers e Mazurewick sono a malapena in grado di trattenere i tuoi muscoli da incontrarsi ancora di più all'improvviso con un ultimo brutale gemito inarchi la schiena un piccolo animale peloso salta via dalle lenzuole insanguinate corre verso la stanza puzzolente che non sei stato abbastanza veloce ad abbandonare termini la tua vita infelice al 111 quella brutta creatura schifosa dopo quello che ti accadde la casa non fu più affittata non ci volle molto perché la signora Dombrowski la abbandonasse alla sua decadenza finale venne usato così tanto veleno per cercare di uccidere il topo che si era fatto strada attraverso il tuo petto che la casa diventò un vero incubo per tutto il vicinato la puzza che emanava era così insopportabile che fu ordinata la sua demolizione i tuoi sogni e le tue indagini non trovarono mai una spiegazione e il buon Elwood trascorse un lungo periodo di tempo ricoverato al manicomio di Arkham l'unica certezza è che dalla tua morte non si verificarono più avvistamenti della vecchia Kezia o di Brown Jenkin fino al marzo 1931 quando una tempesta distrusse il tetto e il grande camino della casa della strega vi dice che ci fosse rossa schiacciate in malo modo e spezzate chiaramente riconoscibili come umane in mezzo alle rovine alcune appartenevano a un bambino e altre trovate in mezzo a stracci polverosi appartenevano a una donna anziana tra di esse un crocifisso d'argento che aveva impedito a una ciotola di metallo con strani simboli incisi sopra di cadere attraverso un sinistro buco praticato dai fori sul pavimento fine avete finito ricordatevi che Lovecraft non sempre la morte è una brutta cosa avete comunque scongiurato la maledizione della strega con la vostra vita vi siete morti ma l'avete finito eh no ragazzi è Lovecraft può finire con la vostra apatia può finire con la vostra morte Lovecraft questo è il good ending questo era il good ending avete fermato la strega avete fermata avete fermato sia lei che lo schifoso essere però siete morti con onore mi leggo l'appendice e poi il lassio no domani domani vi ricordo che non c'è la live domani sono a registrare tutto il giorno in tail e di solito finiamo abbastanza tardi la sera quindi ci vediamo mercoledino non vi sentite soddisfatti della vittoria perché siete morti però è stata una fine onorevole Mirla Totep è uno degli dèi esterni più attivi vincere morendo è il nostro pane quotidiano in realtà non non capita spesso che vinciate morendo e di solito perdete morendo però sì come vava morite praticamente questa volta sì sì è della serie ma a questo giro non potevate non fare altro che morire è uno degli dèi esterni più attivi degli dèi può adottare molteplici forme mostruose e umanoidi più comunemente conosciuto come il caos strisciante le sue intenzioni sono sempre oscure cercare di stabilire un dominio di follia sulla terra è alleato con la vecchia Kezia e vuole aprire un portale attraverso il tempo per trasferire entità ancora più terribili sul nostro pianeta guardate che bello con quel tentacolo gigante al posto della testa cioè in realtà credo che sia questo dietro o anche questo vi faccio vedere i personaggi Joe Mazzurewix è uno dei poveri disgraziati intrappolati nella casa della strega la sua fede è incrollabile e trascorre la maggior parte del suo tempo pregando con l'amico e il confessore i waniki potrebbe esserti di aiuto ammesso che tu riesca a sopportare le sue costanti litanie Kezia Mason ma io la sogno stanotte Kezia che brutta vecchia strega che sfoggia ai processi di Salem nel 1692 grazie alla sua abilità di viaggiare attraverso distorsioni geometriche nella realtà molti hanno tentato di svelare i suoi segreti e nessuno è sopravvissuto per raccontarlo ci sono voci continue di avvistamenti della vecchia megera nei pressi della sua casa nella Horn Gangway Dolores Dombrowski non sicuramente più bella della strega è la proprietaria della vecchia casa di Kezia Mason è un'immigrata polacca che si trova intrappolata nella casa perché non ha le risorse economiche per andarsene si prende cura del marito malato che è rinchiuso nel seminterrato Brown Jenkins ratto peloso dalle sembianze distorte di un essere umano e dalla risata inquietante è il famiglio di Kezia e le fornisce aiuto durante i suoi funesti rituali si dice che possa essere stato generato da Kezia o da qualche dio esterno come Yogg-Sothoth o Nyarlathotep stesso padre Iwaniki no ragazzi se devo sognare qualcuno stanotte credo sia padre Iwaniki quanto è pauroso raga è crepissimo no questo è il bestiario Valerius alcuni dicono che il buon vecchio padre Iwaniki della chiesa di San Stanislao possa essere in contatto con il culto dell'ordine esoterico di Dagon a Innsmouth anche se a dire il vero non esistono prove in merito è un uomo di fede dall'aspetto strano a causa degli occhi sporgenti e dell'odore di pesce ahhh ok ok è un amichetto di Dagon ecco perché questa faccia perché evidentemente segue Dagon e gli uomini pesce e questo invece è l'uomo nero non l'avresti mai detto vero? misteriosa entità che appare nei tuoi sogni nella casa della strega potrebbe essere una delle incarnazioni umanoide di Nyarlathotep il dio esterno e Frank Elwood ma tipo una persona decente c'è in sto libro è uno studente della Miscatonic University periodo di crisi l'ha costretto a vivere nella vecchia casa sulla Horn Hill è un giovane pieno di entusiasmo e di ottimismo che ha avuto la sfortuna di trovarsi intrappolato nel posto sbagliato e qui concludiamo i sogni nella casa della strega